Salve, noi siamo il team di Uniflat, siamo tre studenti di ingegneria. Cosa facciamo? Vogliamo creare un portale che risolve il problema degli affitti per i fuorisede. In che senso? Non solo affitti di stanze, ma anche ricerca del coinquilino giusto. Perché tutti abbiamo avuto un coinquilino sbagliato. Come lo facciamo? Tramite l'aggregazione con i social network, risolviamo in maniera semplice, diamo un indice di compatibilità tra i coinquilini. Vogliamo subito sviluppare una beta perché puntiamo già a fine agosto per il primo semestre ad offrire una beta a un gruppo di 5.000 studenti fuorisede qui a Catania che ci segue già da tempo. Che altro? Solo una cosa, se non avete coinquilini sbagliati vuol dire che siete voi. Grazie.